Buongiorno a tutti, siamo qui a Bagnalucca, una delle più grandi città della Bosnia-Herzegovina. Siamo stati invitati al congresso dei fisiatri bosniaci. Oggi io parlerò di ricerca, parlerò della situazione della ricerca in Europa e il mio primo punto è stabilire intanto che l'Europa debba lavorare unita per migliorare la qualità di vita dei nostri, di tutti noi. E in secondo luogo è importante anche sostenere che la ricerca e la riabilitazione deve crescere ancora di più rispetto a quanto già non si è avvenuto in passato. Un abbraccio qui da Bagnalucca.